Queste cannulas sono blocchi, ma non sono sul mercato. Vedete dove sono? Sono proprio sotto la pelle. Poi ho cambiato un po' la direzione. Questa è la mia invenzione. E mi piace. Penso che presto ti aiuterai. Ora puoi riuscire un po' la pelle. Dobbete fare un'hypercorrezione. C'è circa 20% di un'hypercorrezione sulla pelle. Perfetto, se facessi combinazione con la botulotoxina, sarà molto meglio e molto più forte. Il risultato resta più di più. Quindi due nodi in un'hypercorre, poi separatele. E ogni nodo va in ogni modo che vogliamo. Perfetto. Se vuoi volerci solo l'hypercorre, poi andate dentro l'hypercorre. Se vuoi volerci l'hypercorre e l'olio, poi andate dentro l'hypercorre. Allora. 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 Allora.